Signore e signori, l'istruzione inclusiva per tutti può significare qualcosa di diverso per ognuno di noi. È però un'emanazione del diritto all'istruzione. È un diritto universale, perché ogni bambino ha il diritto di imparare e sviluppare le sue capacità indipendentemente da dove viene, dalla sua situazione economica, dal suo stato di salute. In un mondo sempre più polarizzato, dove molto velocemente giudichiamo e classifichiamo l'altro, la scuola è il luogo, è proprio quel luogo dove i bambini e i giovani possono partecipare a pari diritto alla vita scolastica e dove dovrebbero avere le stesse possibilità di sviluppo, le stesse opportunità. Cosa significa in pratica? Come possiamo fare in modo che la scuola sia inclusiva, che reagisca a eventuali ostacoli che possono provocare l'esclusione? Come far vedere ai bambini che l'altro non è peggiore di noi? Come dimostrare ai bambini che dobbiamo atteggiarci rispetto all'altro con la mente aperta, ma soprattutto con rispetto? Come sostenere il potenziale dei bambini in gruppo e individualmente? Di questo parleremo oggi con gli esperti. Cominciamo con la presentazione della relazione What Makes Me? che cerca di analizzare come sviluppare le capacità di base, le competenze di vita dei bambini e come questo contribuisce allo sviluppo personale del bambino e all'autostima del bambino. Ci presenta la relazione Chiara Piccolo, direttrice che gestisce la rete europea Alliance for Childhood a capo dell'unità per la fondazione europea Learning for Wellbeing. Questa relazione si fonda su uno studio che è stato svolto da Learning for Wellbeing Foundation, una fondazione apprendimento per il benessere, nonché il Centro Innocenti dell'UNICEF. Il quadro è quello di apprendimento per il benessere. Quindi siamo partiti da questa sigla L4WB che significa apprendimento per il benessere e ci siamo detti che è molto importante che si sviluppi il proprio potenziale unico con uno sviluppo fisico, emotivo, mentale e spirituale rapportando se stessi agli altri e all'ambiente circostante tenendo presente tutti questi elementi. Perché è venuto fuori questo concetto? Perché abbiamo voluto vedere le persone in modo olistico, cioè nella loro completezza. Ogni essere umano ha un benessere creato da qualità di benessere mentale, emotivo e fisico e ciascuno ha anche un proprio potenziale unico che si potrebbe considerare l'io in senso psicologico o in senso spirituale potrebbe essere la fonte. Ecco, noi sappiamo tutti che c'è un elemento che ci consente di essere in collegamento con noi stessi con chi ci sta intorno e con l'ambiente circostante. Quindi noi siamo tutti composti da questo schema però allo stesso tempo siamo anche tutti diversi quindi da una parte uguale e dall'altra diversi. Perché? Perché ciascuno ha un suo modo di funzionare. e quello che noi nel nostro quadro abbiamo chiamato la diversità interiore è una cosa importante perché da una parte abbiamo tutti le stesse qualità dall'altra abbiamo anche delle capacità innate e funzioniamo in modo diverso. Queste capacità e queste nostre qualità le sviluppiamo ciascuno a modo suo. nel nostro lavoro abbiamo parlato di nove capacità fondamentali il rilassamento incorporare le cose, osservare, sentirle, riflettere, ascoltare chiedere, essere empatici e riuscire a individuare gli schemi. Quindi ciascuno è diverso a modo suo e nel modo di sfruttare queste capacità che sono alla base di quelle che noi chiamiamo le qualifiche o competenze di vita. Queste sono le immagini che noi abbiamo utilizzato in seno alla relazione che abbiamo preparato. E qual è tra queste quella che rappresenta la capacità di empatizzare la capacità di essere empatici? Naturalmente quando nutre il fiore, quando lo annaffia perché si sta occupando dell'ambiente intorno a sé capendo le sue necessità e reagendo con empatia. Quindi cosa mi rende me stesso? Quali sono le capacità di base? Intanto la capacità dell'essere umano di correlarsi a se stesso, agli altri e all'ambiente poi avere delle competenze di base andare verso gli stessi obiettivi che è spesso una cosa dimenticata poi è l'evoluzione e l'insegnamento ai bambini che così diventano volani del potenziale. Quali sono gli elementi importanti che abbiamo riscontrato nel capire come ci si forma? Le capacità che sono dei portali cioè di ascoltare, di osservare, di sentire e ci sono poi delle capacità che sono essenziali che non sono né positive né negative per esempio se parliamo di riflessione potrebbe essere anche eccessiva andando verso un ruminare sulle cose e anche la sensibilità il fatto di incarnare le cose può portare a confusione bisogna usare poi le capacità essenziali in modo diverso a seconda che si sia adulti o bambini anche il fatto dell'ascolto o di farsi delle domande può essere molto diverso gli adulti possono ascoltare i bambini insomma semplicemente con le orecchie con la testa o col cuore o con il corpo intero quando ascolto mio figlio posso stare a distanza o posso veramente mostrargli che ascolto con una fisicità che gli fa capire che sono interessata poi anche un ambiente che consente ai bambini di fare le cose importanti non dobbiamo eccedere nelle stimolazioni ma dobbiamo stimolarli dobbiamo poi lasciare loro uno spazio sufficiente per evolvere in psicologia sapete che c'è sempre un collegamento tra lo spazio e il tempo perché lo spazio è importante ma ciascuno ha i suoi tempi nell'evoluzione e nell'uso di quello che ha nello spazio ci sono tanti elementi poi che sono gli attributi personali genere, trauma, età tutta una serie di elementi se volessi passare più nei dettagli delle capacità per esempio degli schemi che consentono di vedere quello che succede bisogna intanto capire cosa ci consente di capire quali sono gli elementi intercollegati le interdipendenze e i rapporti con l'insieme queste sono capacità che un bambino di 4-5 anni già può avere è come avere un disegno a puntini dove si fa il trattino di collegamento è un po' come quando i bambini chiedono sempre ma perché, perché, perché lo fanno perché stanno cercando quel trattino che gli consente di collegare un puntino all'altro poi la curiosità ecco bisogna avere la capacità di cercare quello che consente di espandere le conoscenze con azioni, con domande con apertura e curiosità e questo sin dall'inizio della vita anche a pochissimi mesi può funzionare non so se abbiate mai avuto un'esperienza con un neonato o un bebè di 6 mesi che sta seduto sul seggiolone e getta tutti gli oggetti e poi cerca di seguirli con lo sguardo per capire cosa sta succedendo in pratica si sta chiedendo cosa succede ecco, prende mano all'oggetto adesso poi si dice mi dicono di smettere di buttare in giro le cose se gli viene creato questo freno in realtà cosa si fa? si impedisce al bambino di imparare di capire quello che succede quindi anche noi come educatori come genitori dobbiamo non mettere sempre questi ostacoli e riconoscere queste esigenze e capacità poi l'ascolto come dicevo bisogna essere capaci di essere in sintonia con quello che ci collega con parole, suoni spazi interiori e anche esterni e questa è una cosa che esiste ed è una capacità comprovata già ancora prima della nascita io mettevo musica sul pancione quando ero incinta e abbastanza recentemente ho fatto ascoltare le canzoni che mettevo sul pancione ora a dieci anni e sapete cosa mi ha risposto? mamma quando sento questa canzone mi sembra di essere abbracciato da te la sento come un abbraccio quindi bisogna lavorare dalle primissime fasi con i neonati con i bambini ma anche in utero poi bisogna riflettere per vedere come offrire uno sviluppo i bambini devono poter riflettere pensare guardare verso il passato ma anche proiettarsi verso il futuro e dare dei riscontri e questo è molto importante nella prima istruzione educazione è il momento di condivisione del proprio punto di vista dei bambini piccoli a volte quando sono intorno ai due anni se sono distanti dalla mamma e vedono qualcosa improvvisamente nel loro ambiente circostante con lo sguardo cercano subito la mamma perché nella mamma cercano di vedere qual è la loro reazione prevedibile cioè dovrebbero avere paura essere contenti o no quindi non c'è solo la riflessione ma anche il fatto di guardare verso l'altro per leggerne il feedback i riscontri nel volto e nel fisico e poi copiarli in pratica per imparare e questo mi riporta a dire quanto siano importanti i genitori e che i genitori hanno questo ruolo di protezione ma anche di riconoscimento delle capacità dei bambini perché solo così possiamo veramente prestare attenzione alle loro capacità riconoscerle appieno e fare in modo che si sviluppino e che il loro potenziale possa completamente realizzarsi intanto ci tenevo a sottolineare che bisogna investire in ambienti che consentano davvero lo sviluppo di queste capacità che poi vale sia per i bambini che per gli adulti tutti devono potersi esprimere poi infine le capacità essenziali che sono un prerequisito essenziale indisperanzabile per uno sviluppo infantile sono ovvie evidenti nei bambini dalle primissime etappe devono essere promosse e protette sempre sin dall'inizio grazie per questa presentazione veramente molto interessante che ci ha introdotto un po' nel mondo dello sviluppo del bambino vi presento ora il prossimo esperto il signor Damian Kupchik che ci presenta un progetto il cui obiettivo principale è la lotta gli stereotipi che riguardano bambini con disabilità lotta grazie all'informazione alla conoscenza e al gioco in gruppo con coetanei signore e signori noi come fondazione ci occupiamo soprattutto del sostegno nell'ambito dell'istruzione perché è un'attività sistemica la scuola è il luogo dove trascorre la maggior parte della sua vita spesso parliamo di processo di risocializzazione per esempio laddove abbiamo potuto aiutare i bambini grazie all'istruzione i bambini imparano dai genitori soprattutto tra il primo e il terzo anno di età il bambino crea delle relazioni dei rapporti senza questi rapporti non siamo in grado di capire cos'è l'empatia né di provarla perché ogni adulto sarà per noi un rischio il rischio è di pensare che ogni adulto che incontriamo per noi è un rischio quindi dobbiamo coinvolgere i genitori far vedere quanto è importante creare questi rapporti stare con il proprio figlio prima che venga poi consegnato nelle mani degli esperti della scuola perché solo a scuola possiamo poi creare diciamo questo edificio e far sviluppare il bambino però sulla base delle fondamenta gettate dai genitori il bambino deve capire che quello che vede e quello percepisce sono collegati che la persona che sta seduta accanto a me non è un pixel sul monitor del mio telefono ma è un essere umano con cui io sono legato a cui sono legato noi siamo infatti esseri sociali abbiamo parlato anche di potenziale io devo capire qual è il potenziale di ogni bambino ecco perché dobbiamo cominciare dalla creazione delle relazioni anche con gli insegnanti io vorrei che con progetti come il nostro il nostro mondo fosse più empatico e che i bambini abbiano un atteggiamento molto più empatico di quello che abbiamo noi spesso nei loro confronti dobbiamo ricordare anche gli ospedali perché ci sono bambini anche che vanno a scuola in ospedale quindi siamo anche negli ospedali poi parliamo anche dei bambini dall'Ucraina che sono venuti in Polonia e che hanno bisogno di sostegno parliamo con esperti di tutto il mondo dobbiamo cominciare dall'istruzione inclusiva e cominciare a pensare in categorie di istruzione di massa perché tutti abbiamo bisogno di empatia soprattutto oggi perché abbiamo a che fare con molte situazioni dove l'incompressione riguarda non soltanto il nostro aspetto e il nostro comportamento ma molte altre cose questo provoca che ci sentiamo esclusi e questo cambia il modo in cui funziona il nostro cervello cambia il modo in cui ci atteggiamo rispetto all'altro e crea molti problemi tra cui anche la depressione la depressione sarà una delle malattie più diffuse al mondo entro il 2030 noi non abbiamo tempo abbiamo gli strumenti e li dobbiamo usare in fretta perché? perché l'empatia signore e signori riduce la violenza e la stigmatizzazione sono due fattori fondamentali per quanto riguarda i disturbi psichici è stato detto che è importante giocare che è importante essere paziente con i bambini noi come adulti vediamo il pericolo laddove il bambino invece gioca dobbiamo cercare invece di metterci nei panni dei bambini e vedere il mondo con i loro occhi grazie penso che possiamo tutti dire che l'empatia significa comprendere l'altro ed è una delle capacità più importanti che devono essere insegnate ai bambini a scuola fin dai primi anni d'età perché perché la paura dell'altro la non conoscenza crea intolleranza indifferenza a volte purtroppo anche aggressività signore e signori vi presento il prossimo esperto che ci presenta soluzioni sistematiche che consentono di eliminare le barriere per l'istruzione inclusiva quello che volevo condividere con voi questa mattina era innanzitutto situarvi e spiegarvi chi siamo le scuole europee perché so che oggi abbiamo un pubblico molto vasto e non tutti hanno figli alla scuola europea e noi insegniamo sin dalla scuola materna fino all'equivalente del fino al baccalorea cioè il settimo anno da noi che è l'equivalente della maturità italiana è un sistema che è molto complesso meraviglioso ma che pone tante sfide perché perché lavoriamo mano nella mano dalla scuola materna alla primaria alla secondaria fino all'anno della maturità che qui è il settimo anno europeo forse la cosa più importante è cercare di farvi capire come abbiamo cercato di eliminare o ridurre quantomeno gli ostacoli a un'istruzione inclusiva il sistema è organizzato e la cosa importante è che ci sia molta concertazione con i portatori di interesse noi abbiamo molti esperti nelle scuole magari ci consideriamo noi stessi esperti ma in realtà alla fine è importante anche ascoltare esperti fuori dal sistema delle scuole europee ovviamente ascoltare anche i genitori e altri interessati e poi c'è un elemento che forse è quello più importante che è stato sottolineato anche dall'oratore precedente che diceva dobbiamo essere ambasciatori dell'empatia è vero bisogna cambiare le mentalità ci sono state molte evoluzioni almeno su carta negli ultimi anni forse qualcuna è passata anche nelle classi ma non riusciamo a tenere presente questo cambiamento epocale in ogni istante in ogni aspetto del nostro lavoro quindi questo è un processo continuo bisogna essere sempre più consapevoli formare anche bene il personale perché da noi gli insegnanti vengono distaccati per un periodo di nove anni e poi cambiano vengono tra l'altro da sistemi dell'istruzione nazionale tutti diversi tra loro come diceva prima la signora Ferraien bisogna intanto creare la comprensione anche attraverso i diversi stati membri di quello che si intende per istruzione quindi è importantissimo dare formazione a chi appena arriva e essere certi che tutti abbiano la stessa visione l'obiettivo qual è visto che stiamo parlando comunque di istruzione che è una cosa che si protrae nel tempo gli studenti crescono e meno sempre meno avranno bisogno di un sostegno che noi comunque offriamo perché fino alla maturità al baccalorea noi offriamo degli aiuti se necessari però cerchiamo di renderli indipendenti al massimo noi da un punto di vista politico e capirete quanto è importante perché è una cosa che risale alle raccomandazioni delle Nazioni Unite cerchiamo di evitare di essere in una situazione in cui rifiutiamo di ammettere studenti scolari che hanno esigenze specifiche vogliamo evitarlo però naturalmente sono sempre i genitori che decidono insieme agli educatori che possono determinare in che momento magari lo studente abbandona il nostro sistema a volte può essere nell'interesse del bambino non continuare fino al momento della maturità perché magari c'è un progresso che non consente loro la promozione di anno in anno e allora bisogna vedere come intervenire con istituti specializzati o scuole negli stati membri e volevo poi parlarvi di due aspetti del nostro piano d'azione specifici sui quali siamo ancora un po' in ritardo cioè la certificazione fuoriuscita dalla scuola che possa essere a fianco alla maturità al baccalore A che è riconosciuto ovunque in Europa e nel mondo ma se vogliamo lasciare un'altra certificazione di fine scuola bisogna capire come farla riconoscere ed è difficile perché i sistemi di istruzione nazionali sono diversi tra loro e poi abbiamo ancora degli studenti in classi dove ci sono numeri elevati di studenti con esigenze specifiche è aumentato questo numero siamo passati da 3,5% nel 2015 a 6,3% nel 2023 e pensiamo che questo numero aumenterà nel tempo ora per concludere questo panel interverranno due rappresentanti della Commissione Europea che si occupano di istruzione giovani sport e cultura la signora Annalisa Cannoni e la signora Oana Felican che si occupano quotidianamente dell'istruzione nelle scuole e dell'equità nelle scuole ci presentano i lavori della Commissione Europea per quanto riguarda la prevenzione dell'abbandono scolastico prematuro del sostegno degli alunni nel raggiungere e sfruttare il loro pieno potenziale e l'autostima degli alunni sappiamo che in Europa molti alunni molti ragazzini non riescono a realizzare a pieno il loro potenziale non è colpa loro nella maggior parte dei casi direi principalmente dovuto alle lacune ai problemi alle iniquità dei sistemi dell'istruzione nel dicembre scorso sono stati pubblicati i risultati del programma dell'Ocse per la valutazione degli studenti lo studio Pisa sono stati pubblicati i risultati abbiamo sentito che c'è una tendenza preoccupante per quanto riguarda il declino delle performance delle competenze di base in tutta Europa però sappiamo che ci sono anche altri problemi in tutta Europa abbiamo grossi problemi tassi di abbandono scolastico prematuro molto elevati le cifre sono calate nel tempo è una buona notizia ma abbiamo ancora 3,1 milioni di alunni che abbandonano la scuola senza una diploma di formazione secondaria superiore questo porterà problemi nella loro vita è una cosa di cui leggiamo quotidianamente sentiamo parlare di bullismo cyberbullismo episodi di violenza nella scuola quindi questi problemi ci sono sono stati sicuramente esacerbati dalla pandemia però già esistevano prima e queste iniquità veramente sono aumentate se in passato abbiamo rivolto molta attenzione al abbandono scolastico prematuro ora cerchiamo di avere una prospettiva più olistica si tratta di consentire a tutti gli alunni di realizzare il loro potenziale indipendentemente dal punto di partenza dalla loro situazione personale culturale dalla loro situazione socio economica si tratta di riconoscere che gli studenti devono avere la possibilità di crescere a scuola devono ricevere una serie di competenze equilibrate cognitive sociali emotive questi percorsi invitano gli stati membri ad abbandonare gli approcci frammentari una tantum interventi una tantum e passare ad approcci più sistemici pensando a tutti gli aspetti che possono avere un impatto e hanno un impatto sull'esperienza educativa e sul viaggio educativo dei bambini e dei giovani compresi curriculum il modo in cui insegniamo in cui valutiamo lo sviluppo delle competenze però questo include anche altri aspetti più soft come per esempio le relazioni quello che succede in aula a scuola nella classe nel cortile nella scuola tutti questi elementi sono importanti allo stesso modo con in mente questi obiettivi queste raccomandazioni mirano a promuovere riforme e investimenti a livello nazionale per migliorare i risultati scolastici propone un quadro politico che dovrebbe ispirare le riforme questo quadro si basa su una combinazione di diverse azioni di prevenzione ovviamente di intervento e di compensazione tutti e tre gli aspetti sono importanti e magari concentrandosi in modo particolare sulla prevenzione dobbiamo anche combinare misure universali che veramente sono vantaggiose per tutti gli studenti con un sostegno più mirato per coloro che hanno esigenze specifiche vorrei ricordare la nostra visione dell'inclusione che è un viaggio più che un obiettivo particolare un viaggio gli stati si trovano tutti in una fase diversa l'obiettivo è di arrivare all'ultima fase cioè dell'insegnamento alla diversità e ora lascio la parola alla correga Io mi occuperò del benessere nelle scuole come lo sosteniamo abbiamo questa iniziativa appunto dei percorsi al successo scolastico una novità di questa raccomandazione è proprio questa perché prima dell'adozione di queste raccomandazioni a livello europeo pensavamo alla dimensione del benessere nella scuola e ci dicevamo che era molto frammentata affrontavamo principalmente il bullismo o problemi comportamentali invece ci occupavamo meno o avevamo meno un approccio olistico e ci occupavamo meno di sviluppo delle competenze come giustamente hanno detto gli oratori precedenti che è necessario aiutare a sviluppare competenze come l'empatia ora perché è importante il benessere alla scuola la ricerca ha dato molte prove del fatto di come il successo scolastico è collegato al benessere sia degli alunni che degli insegnanti e degli educatori in generale è fondamentale per migliorare la performance accademica visto che ha un impatto diretto sulla motivazione l'impegno sull'attenzione la concentrazione la capacità di imparare di ricordare nozioni ma anche di interagire con gli altri quindi non si tratta soltanto dell'individuo ma dell'alunno in relazione con gli altri nella scuola la definizione di benessere è molto ampia e esistono molte definizioni a dir la verità nei percorsi abbiamo utilizzato la definizione proposta dall'organizzazione mondiale per la salute che percepisce il benessere come qualcosa di più dell'assenza di una malattia è uno status continuo dinamico dove bambini e giovani realizzano le loro abilità e imparano ad affrontare stress comuni nella vita sviluppare un senso positivo di identità la capacità di gestire pensieri e emozioni creare relazioni sociali e acquisire un'istruzione che incoraggia la cittadinanza attiva da questo punto di vista il benessere può essere sinonimo di salute mentale dall'altro lato parliamo di scarsa salute mentale quando c'è ansia depressione o altri disordini disturbi perché è necessario investire nel benessere a scuola io cerco di procedere rapidamente perché vorrei parlarvi anche un po' dell'approccio del tempo in calza oltre i dati che abbiamo dallo studio Pisa Pisa tra l'altro getta luce sul fatto che i sistemi di istruzione più resilienti sono quelli che investono al contempo nell'insegnamento nella uguaglianza e nel benessere allo stesso modo d'altro canto i dati che ci dà l'OMS dal punto di vista sanitario sono preoccupanti c'è uno stabile tendenza in calo per quanto riguarda i problemi di salute mentale dei bambini tra gli 11 13 15 anni con le ragazzine più esposte con i dati peggiori per quanto riguarda il benessere mentale la salute mentale il bullismo è stabile si attesta al 20 23% questi dati che ci dà Pisa abbiamo però anche indici che studiano analizzano la competenza della lettura dei bambini di 10 anni quello che è molto importante è che dimostrano una correlazione stretta tra il bullismo e le competenze di lettura e dobbiamo quindi affrontarle al contempo il benessere degli insegnanti è anche molto molto importante la relazione simbiotica tra gli insegnanti e gli alunni va presa in considerazione in Europa il 20% degli insegnanti dice che il loro lavoro ha un impatto negativo sulla loro salute mentale il 22% dice la stessa cosa per quanto riguarda la salute fisica tornando agli investimenti abbiamo parlato di quanto è importante investire nell'istruzione ma anche nella salute mentale il valore annuale di salute mentale persa per i giovani e i bambini è stimato a 50 miliardi di euro all'anno a livello di commissione europea abbiamo presentato questa iniziativa dei percorsi verso il successo scolastico con il quadro politico di cui ha parlato la collega che affronta tutte le dimensioni a partire dal curricula dalla messa a punto e dallo sviluppo delle competenze socioemotive ricordo anche che le competenze come quelle sociali interpersonali l'apprendimento o imparare a imparare ecco fanno parte delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa adottate nel 2018 abbiamo sentito quanto importanti sono le competenze come l'empatia il controllo delle proprie emozioni la risoluzione dei conflitti quanto è importante istillare queste competenze nei primi anni della scuola nell'istruzione primaria ma anche prima e anche in tutto il percorso scolastico aiutare i bambini ad affrontare periodi transitori lo stress che comporta la scuola importanti anche le competenze degli insegnanti che devono sostenere il loro benessere ma anche il benessere dei loro alunni in questo approccio olistico al benessere a scuola non parliamo solo di competenze a livello individuale ma parliamo di sistemi dell'istruzione perché l'uguaglianza è il valore alla base che consente il benessere a scuola e non ci può essere benessere a scuola senza un sistema paritario che sostiene aiuta gli alunni e aiuta a soperire le loro esigenze sappiamo dai dati fornitici dall'oms che gli alunni più a rischio di problemi di salute mentale sono quelli di un'istrazione sociale più bassa che appartengono a un gruppo etnico minoritario magari che vengono da famiglie di immigrati e quindi dobbiamo consentire alle scuole di diventare attori protettivi rispetto a questi bambini poi c'è una questione complessa ovviamente dobbiamo coinvolgere anche i genitori e la comunità più ampia nel processo volevo farvi vedere alcune schede che abbiamo compilato rivolte alle scuole sulle diverse componenti di cui vi ho parlato e poi c'è anche il lavoro del gruppo di esperti che si concluderà a giugno che pubblicherà presto una serie di orientamenti per le scuole e i politici per affrontare il benessere a scuola grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti